Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. E soprattutto la nuova bussola quotidiana si decide finalmente a parlare di Don Minutella. Ecco cari amici, siamo arrivati agli ultimi tempi, ormai ufficiale, siamo in piena apocalisse, perché oggi si è verificato un evento epocale, un evento astronomico che non si vedeva da dieci anni. Passa la cometa di Halley e finalmente la nuova bussola quotidiana si decide a parlare di Don Minutella. Quello che resta ancora innominabile è il sottoscritto, cheppure è stato per alcuni anni collaboratore della nuova bussola quotidiana. E perché dico che bisognava citare anche il sottoscritto? Perché è apparso oggi un articolo di Luisella Scrosati su Don Ramon Guidetti, che ha ammesso pubblicamente di aver scelto questa strada, di aver preso questa decisione drammatica, che gli è costata la scomunica, in base all'inchiesta di Andrea Cionci, codice Ratzinger. Ecco, tra parentesi, il post diretto da Sofri continua a dire che la teoria di Cionci è stata smentita. È stata smentita così bene che un sacerdote ha deciso di perdere tutto e di farsi scomunicare, perché la teoria complottistica di questo sedicente giornalista lo ha convinto. Bene, allora che cosa dice Luisella Scrosati? Leggiamo l'articolo, prete scomunicato a Livorno, sanzione giusta, sanzione giusta, ma un problema c'è. Una ricostruzione corretta della vicenda di Don Ramon Guidetti dimostra che la decisione del Vescovo Giusti è incontestabile. È certo, è incontestabile. Resta però il fatto, bontà sua, che tra i fedeli e il clero sta crescendo l'agitazione per le decisioni di questo pontificato, che sta spingendo tante persone fuori della Chiesa. Allora, Luisella Scrosati fa una ricognizione e un riassunto della vicenda di Don Ramon Guidetti, addirittura citando Don Alessandro Minutella. Nell'Omelia Don Guidetti ha salutato padre Alessandro Maria Minutella, il sacerdote palermitano scomunicato nel 2018. Ah, allora esiste! Ah, allora non è una figura, non è una figura leggendaria padre Alessandro Maria Minutella. Quindi ha nominato i sette sacerdoti, qui abbiamo proprio strafatto, ha nominato i sette sacerdoti che si sono uniti a Minutella nel sudalizio sacerdotale mariano. Secondo Don Guidetti, i Magnifici Sette, tutti colpiti da sanzioni ecclesiastici. Attenzione, attenzione, oggi veramente bisogna stappare una buona bottiglia. Ora ricostruisce appunto la scomunica, il fatto che lo stesso Vescovo insomma lo aveva avvertito, Don Guidetti aveva già fatto l'armi e bagagli eccetera. Ecco, anche si cita il fatto che Don Guidetti dice con la scomunica ci farò una bella cornicina e lo appenderò al muro e sarà qualcosa di cui mi vanterò ben volentieri con il suo delizioso e simpaticissimo accento toscano. Allora, questo punto va chiarito, scrive Lascruzati. Don Guidetti non ha semplicemente criticato, anche con toni forti, azioni, parole e documenti, ma ha usurpato il giudizio della Chiesa su chi sia o non sia il legittimo pontefice. Attenzione, ha usurpato il giudizio della Chiesa su chi sia o non sia il legittimo pontefice. Il problema non è avere dubbi in foro interno, purché fondati, ma riconoscere che si tratta appunto di dubbi che attendono un giudizio da parte della sola autorità che si può pronunciare in questo ambito, la Chiesa. Allora, cara Luisella Scrosati, scopriamo insieme la Universi Dominici Gregis, articolo 76 e 77. Vedi in questa slide. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede le lezioni del romano pontefice e lo svolgimento della medesima debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della sede apostolica dovesse avvenire per rinuncia del sommo pontefice a norma del canone 332, paragrafo 2 del codice di diritto canonico. Benissimo. Andiamo a leggere insieme questo canone 332.2. Si contingat ut romanus pontifex muneri suo renunziet. Muneri suo renunziet c'è scritto. Eh, qua c'è scritto muneri. Ok. Andiamo a vedere la declaratio di Papa Benedetto. Declaro me ministerio episcopi Rome successoris sancti Petri commisso renunziare. Oddio, qui si parla di ministerio, cioè il dativo di ministerium. E che cosa sarà mai questo ministerium? Ma c'è differenza fra munus e ministerium? Boh, chi lo sa? Qualcuno dice che sono sinonimi. Bene, allora rivolgiamoci a Monsignor Bux, visto che Monsignor Bux è un collaboratore della Bussola Quotidiana ed è un teologo di fama, il quale scrive su il giornale di Napoli del 21 febbraio 2023 il munus, l'ufficio in sé di Papa, l'altro il ministerium, l'esercizio della giurisdizione papale. Quindi sono due cose diverse. Il munus, l'ufficio, l'investitura di Papa, il ministerium, l'esercizio della giurisdizione. Essere e fare. Essere e fare. Ora, la cosa interessante, sai qual è? E' che l'articolo 76 della Universi Dominici Gregis, sempre se voi la considerate valida, la scritta, il Cardinale Ratzinger, promulgata da Papa Voitiva nel 96, non so se possa essere considerata una pezza d'appoggio per voi, se sia degna di considerazione. Dice l'articolo 76, se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione, o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, cioè, come leggiamo nel 77, la rinuncia del sommo pontefice a norma del canone 332.2, che richiedeva la rinuncia al munus, e che non c'è stata, l'elezione è perciò stesso nulla invalida, e quindi essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Ma bisogna aspettare una dichiarazione ecclesiastica? No, spiega l'articolo 76, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Ripeto, l'elezione è perciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Quindi, come vedi, come vedi, tu stai facendo confusione, perché per la legittimità del Papa, almeno per quanto riguarda il caso citato dalla Universi Dominici Grecis, ed è quello a cui si riferisce Don Ramon Guidetti, non c'è bisogno di alcuna dichiarazione ecclesiastica. Quindi Don Guidetti non sta usurpando un bel niente. Semmai ci potrebbe essere un'usurpazione se Don Guidetti avesse considerato decaduto per eresia Papa Francesco. Allora sì, allora sì, perché ci vuole comunque un pronunciamento della Chiesa. Invece, per constatare la sua non elezione, non serve una dichiarazione ecclesiastica. Quindi, quello che stai dicendo è inesatto, è sbagliato. Stai facendo confusione tra il giudizio della Chiesa sul Papa eretico, cosa difficilissima da ottenersi eccetera, e la sua non legittimità, che, almeno per quanto riguarda il caso contemplato dall'Universi Dominici Grecis, non richiede alcuna dichiarazione in proposito. Quindi, quando scrivi che il parroco ha sostanzialmente spiegato che Benedetto XVI non avrebbe mai rinunciato al munus petrino, questo condizionale lo dobbiamo togliere. scusami, è per amore di oggettività. Tu mi dici che Papa Benedetto ha rinunciato al munus? Lui dice che le sue forze in grave scente etate non iam aptas esse ad munus petrino eque administratum. Quindi lo cita il munus petrino. Però, poi, declaro me ministerio episcopi Roma e commesso a rinunziare. Quindi, Papa Benedetto la fa questa distinzione fra munus e ministerio, ma addirittura ci spiega pure veramente considerato che siamo tutti dei dementi, ci spiega pure che cos'è questo munus. Sono ben consapevole che questo munus per la sua essenza spirituale deve essere compiuto non solo con le opere e le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Cioè, questo ufficio, questa investitura deve essere esercitata, resa esecutiva, applicata attraverso il ministerium. Ora, qual è l'unico caso in cui il Papa perde il ministerium e trattene il munus, visto che il Papa non potrebbe mai perdere, rinunciare al solo ministerium trattenendo il munus, è quello della sede impedita. Ma questo a noi non ci interessa, perché la sede impedita Papa Benedetto ha voluto strafare, cioè, con una declarazione che non solo non era un'abdicazione valida, ma era anche qualcosa di perfettamente coerente, letto in restrizione mentale larga. Ma lasciamo perdere, il codice Ratzinger, la sede impedita, lasciamo perdere. Quello che interessa a Don Guidetti è che la rinuncia del sommo pontefice non è avvenuta a norma del canone 332.2 e quindi Papa Benedetto non ha rinunciato al munus, togli quel condizionale, non ha rinunciato al munus, Petrino, e quindi, visto che non occorre alcuna dichiarazione in proposito per constatare che la persona eletta non ha alcun diritto, Don Guidetti, in modo del tutto lecito e del tutto coerente con le leggi della Chiesa, ha detto signori, guardate che Bergoglio non è il Papa. Quindi, cara Luisella Scrosati, io ti invito a una conversazione sul mio canale che tu ovviamente rifiuterai, ovviamente rifiuterai, ne sono sicuro al 100%, perché, per tutta una serie di motivi che non voglio indagare, però stai dicendo delle inesattezze e stai accusando un sacerdote di aver fatto qualcosa di sbagliato, di contro le leggi della Chiesa, stai dicendo che il Vescovo Giusti invece è intervenuto giustamente e questa è una grossa responsabilità, è una grossa responsabilità. Ripeto, ti invito a rispondermi su questo fatto. C'è scritto o non c'è scritto che non occorre alcuna dichiarazione in proposito? È vero o non è vero che Benedetto XVI non ha rinunciato al munus? È vero o non è vero che sono due cose diverse come scrive il vostro collaboratore Monsignor Nicola Bux che sono uno l'ufficio, l'investitura e l'altro l'esercizio della giurisdizione papale? Ora, io direi è il momento della verità, è il momento dell'onestà intellettuale ma non per dare ragione a Cionci, chi se ne frega di Andrea Cionci? È il momento di riconciliarsi con la Chiesa di Gesù Cristo che via verità e vita. Se tu dici che Don Guidetti è andato contro le leggi della Chiesa perché doveva aspettare un pronunciamento ecclesiastico dici qualcosa di non vero oppure giustifichamelo, giustifichamelo. Ripeto, qui la questione dell'eresia non entra minimamente in discussione che per giudicare il Papa eretico ci sia bisogno di un pronunciamento della Chiesa siamo perfettamente d'accordo. Ma qui non si tratta di giudicare Bergoglio se è eretico o meno se è simpatico o antipatico il punto è che lui non è il Papa perché Benedetto XVI lascia stare il codice Ratzinger la sede impedita e Benedetto XVI forse perché era modernista forse perché era distratto forse perché aveva bevuto un grappino di troppo comunque quella Declaratio non l'ha lasciata a norma del canone 332.2 e questo è un fatto io spero che la bussola quotidiana dopo questo importante articolo che finalmente prende in considerazione il sacrificio dei sacerdoti voglia analizzare la questione con onestà intellettuale so che non vi sono simpatico mi dispiace purtroppo io ho cercato da diversi anni di tessere un confronto amichevole su questo tema che voi avete sempre rifiutato non sono qui a fare rivancismi di sorta quindi nel momento in cui deciderai di conversare pacificamente come abbiamo fatto con il dottor Gulisano collaboratore della bussola quotidiana che si è convinto che Bergoglio non è il Papa vedasi ultima intervista pubblicata su questo canale per me pace fatta immediatamente cioè non serbo rancore e non e non avrò alcun atteggiamento di tipo rivancista però adesso veramente è l'ora dell'onestà intellettuale cari amici vi ricordo i prossimi appuntamenti il 13 a Sanseverino Marche insieme a Diego Fusaro il 14 a Monte Silvano dove ci sarà anche il teologo Carlo Maria Pace il 2 marzo a Torino il 17 febbraio sarò a Civita Nova Marche con Gianmarco Landi un caro saluto a tutti un saluto e rinnovo l'invito a Luisella Scrosati